E lo ringraziamo, il senatore Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, Presidente della Commissione Antimafia. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo appena sentito il senatore Grasso che ha giudicato in maniera molto dura questa decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Immagino che sia anche il suo giudizio, un giudizio duro. Immagino che debba essere così per tutti quanti noi italiani che abbiamo in qualche modo coscienza di che cosa significa contrastare le organizzazioni mafiosi. Purtroppo, evidentemente, in Europa non vogliono capire quello che si sta ripetendo ormai da anni. Poi magari si svegliano a seguito della strage di Duisburg o di operazioni che fanno capire che tanta parte dell'economia di loro territori è infiltrata prepotentemente da locali di Indranghia oppure da cellule di Camorra. Fatto sta che non si è capito che l'ergassolo ostativo viene concesso, viene dato solo e soltanto a chi non manifesta in modo alcuno volontà di collaborazione con lo Stato. Come se mi permette questa metafora, durante una guerra, perché quella con le mafie è una guerra, un esercito dopo aver fatto prigionieri 200 nemici, passati sei mesi, passati 12 mesi, prenda e consegni questi prigionieri all'esercito nemico. Normalmente queste operazioni si facevano quando c'erano scambi di prigionieri o quando questi prigionieri dimostravano la volontà di abbandonare quel fronte avverso. Ma se questa manifestazione di volontà non c'è, noi rischiamo di concedere nuovamente a sodalizzi mafiosi persone di 50, 55, 60 anni ancora nel pieno della vigoria fisico-psichica e desiderose di ritornare nel sodalizio da cui provenivano oppure di tornare a stare reati fondando loro stessi e non sulla lì. Ed è questo che non si è capito. Però mi domando fino a che punto sia stata nostra responsabilità, nostra di noi italiani, nel non farci comprendere e al contrario in che misura sia stata l'insensibilità a fronte di certi temi. Neanche perché ricordando sia l'ostinazione con cui Giovanni Falcone volle l'approvazione dell'articolo 4b dell'ordinamento giudiziario, quello che appunto impone l'ergassolo statico, sia la richiesta avanzata nel famoso papello di Rina che chiedeva appunto che venisse trasformato l'ergassolo perché di quello hanno paura. I mafiosi evidentemente non avendo memoria e coscienza di questi passaggi della nostra storia criminale ma anche politico-giudiziaria degli ultimi decenni, la CEDU nella sua Gran Camera ha deciso rigettando il ricorso proposto dal governo italiano a tutti i passaggi. Ho letto delle sue dichiarazioni, secondo lei sarebbe a rischio anche il regime del 41bis che peraltro appunto non è collegato necessariamente alla pena dell'ergassolo? Ma è un depotenziamento della costellazione valoriale, concettuale all'interno della quale si deve combattere la mafia e si badi. Io sono il primo a sostenere che la mafia verrà sconfitta attraverso prevenzione e quindi intervenendo su fronti culturalmente ampi, modificando le mentalità collettive, però questo è un lavoro che porterà risultati da qui ad anni o decenni. Nel frattempo si deve fare repressione e se tu la repressione me la depotenzi considerando la mafia un'associazione a delinquere di normalissimo stampo, allora significa che tutta la specificità che noi italiani attribuiamo al 416bis, al codice antimafia, alle interdittive antimafia che sono misure amministrative e non giudiziari, significa che non è stato ben compreso a Strasburgo. Arrivano delle domande, una la trovo particolarmente intelligente, ma quali sarebbero le conseguenze se l'Italia non ottemperasse alla sentenza che lui definisce ridicola della Corte Europea dei diritti dell'uomo? Adesso noi dobbiamo immediatamente ragionare per come giuridicamente parare il colpo, certo è che questa sentenza ad esempio rafforza tutto il contenzioso che è già in esse per una trentina di altri casi, riproposto appunto da detenuti all'ergassolo che potrebbero addirittura ottenere risarcimento per il danno a loro arrecato da questa ingiusta detenzione. Addirittura il risarcimento? Al danno si aggiungerebbe la beffa. Assolutamente, anche perché comunque lei l'ha ricordato, qua si parla di lavoro all'esterno, 957, sono 957 condannati in Italia a questo tipo di ergassolo e quello a cui vorrebbero accedere sarebbe per esempio i permessi premio, il lavoro all'esterno, comunque tutte condizioni che permetterebbero... Tutti i benefici che sono stati concessi dalla legge Gozzini ai detenuti comuni. Assolutamente, e che permetterebbero a loro di comunicare con chi è fuori, questa è la cosa importante. Esatto, e questo è il motivo per cui verrebbe ad essere gravemente menomato il 41 bis, perché il 41 bis, lo ribadisco, non è un regime di carcere duro come inopinatamente si sostiene da parte di alcuni, è un regime di carcere in cui la comunicazione all'interno dell'istituto di pena, ma anche all'esterno, è rigorosamente impedita, per non dire controllata, al fine di evitare che il membro dell'associazione, ancora convintamente tale, continui ad interagire con l'associazione stessa. Se non capiamo che si tratta di eserciti contro cui siamo schierati, allora abbiamo fatto noi un errore di fondo. Ecco, però, comunque, lei dice, viene depotenziato tutto questo, ma insomma, lo Stato italiano potrebbe ancora fare qualcosa, perché, insomma, questo tipo di decisioni... non cercherà di farlo, fatto sta che la Grand Chambre risulta essere una sorta di corte di cassazione dell'aceto, per cui qua bisognerà investire il Consiglio d'Europa, che è tutt'altra cosa rispetto all'Unione Europea e al Parlamento, però del problema. Anche perché ormai in Slovacchia, in tanti paesi del vecchio est europeo, a Malta, in Olanda, in Francia, in Belgio, in Germania, dovrebbero aver capito che con l'Andrangheta, con la Camorra, con Cosa Nostra non si scherza, salvo poi accettare, magari, ben volentieri, quei capitali che fuggono dall'Italia e vengono investiti altrove perché magari altrove fanno gola. Però qua dobbiamo essere chiari con tutti i paesi, sia quelli aderenti al Consiglio d'Europa, sia quelli aderenti all'Unione Europea. Se noi perseguiamo certi capitali perché la loro origine è criminale, poi non è che a Strasburgo, a Bruxelles, la possano pensare diversamente che da noi. Per cui si deve capire che un reato è mafioso, sia se commesso a Palermo, sia se commesso a Bellinzona o a Strasburgo o a Tolosa. Ecco, lei ha ricordato la mafia, con questo veramente chiudiamo, ma c'è anche il terrorismo, che non è solo quello storico italiano. Ma anche quello nuovo di natura islamista, insomma. Questo dà l'idea appunto del fatto che si sia in guerra. E torno a ripeter, io sono il primo a ricordare la lezione di Gesualdo Bufalino, per cui la mafia verrà sconfitta da un esercio di maestri elementari. E anche l'ISIS e tutte le organizzazioni similari potranno essere aggredite e sconfitte sul piano della cultura, del confronto di idee e di valori. Ma nel frattempo, siccome questo è un lavoro che impegna per generazioni e per decenni, nel frattempo non si può combattere contro i cannoni lanciando margherite. Eh sì, mi pare proprio di sì. Grazie senatore Morra, buona serata e buon lavoro. A lei, buonasera, buonasera.